a incontrare i precari di vario genere. I precari dei vigili del fuoco sono l'operazione fiato sul collo, ci aspettano in tutte le stazioni per ricordare. Stiamo lavorando con tutto il governo, con Marianna, per riuscire a risolvere questo tema. Abbiamo ascoltato le voci di chi non è d'accordo con noi.